eccoci ragazzi bentornati e benvenuti ad un ennesimo video purtroppo per voi di passione fishing plan allora per chi si fosse perso la live di quando l'ho fatta la live fra 15 giorni fa no meno la settimana scorsa settimana scorsa settimana scorsa come passa il tempo c'è qui con noi francesco di fishing senpai ragazzi la settimana scorsa o quando era in live ci è venuto a trovare ragazzi alla fine del video in descrizione andrò a mettere i link della sua pagina youtube della sua pagina instagram così potete vedere i suoi contenuti che sono fantastici contenuti di pesca reale non di giocherelli come facciamo noi anche se ogni tanto giocherelli anche te ho visto eh di rado molto di rado e niente allora prima di partire ragazzi oggi siamo in competizione una competizioncina facile facile un duello fra me e francesco al sencrua come si chiamano i la razza del maschio e del lucio come sono esocidi 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 io ma che cazzo le sapeva queste cose e allora ragazzi molto bene partiamo con una domanda molto precisa francesco è una vita che va a pescare oltretutto se è andato anche bene o male dal nord al sud l'italia bene o male hai affrontato tutto ciò che può essere una zona prolifica per la per la pesca dalla val d'avosta la sicilia l'ho fatte tutto eh vabbè l'italia è finita è finita forse in sardegna in sardegna mi manca mi manca puoi andarci anche a trovare l'offish tra l'altro quindi quindi comunque viaggia si muove fortunatamente ci sono ancora queste persone però no 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 allora persone che fanno una cosa del genere secondo me che dimostrano che a livello ittico in italia si può ancora ci si diverte perché fondamentalmente se vai a vedere dei video ovviamente a meno che tu non metti il prefisso ita spesso e volentieri compaiono cose estere eh americane i grandi fiumi i grandi laghi anche a livello di documentario però la tua passione è qualcosa che è radicata diciamo a livello familiare a livello familiare a livello familiare si si radicata nelle nostre terre ovviamente però a livello familiare quindi in cosa vi siete cos'è la tua pesca preferita oltre vabbè ovviamente che può essere lo spinning dove dove ti piace concentrarti di più nella pesca e questo è una domanda difficile veramente nel senso è come chiedere a un papà qual è il suo figlio preferito dipende dal periodo da in realtà la pesca è bella tutta dal feeder al galleggiante all'arguazien alla carp fishing allo spinning alla mosca per me non bisogna precludersi niente bisogna divertirsi provarle tutte ma sì quando vai a pesca e ti diverti stai facendo la pesca giusta certo certo a costo di fare un cappotto il cappotto fa parte del gioco il cappotto è quella cosa che rende belle le pescate in cui prende il pesce ah vabbè certo questa è proprio il rischio è il rischio ma adesso me la segno è il rischio che veramente però effettivamente partire ed è a me è successo tantissime volte anche andando a mare partire con l'aspio mio padre dice sempre partire carichi di speranza e tornare carichi di meraviglia bella quando quando secco by lee e comprato l'esca giusta il tempo è buono e tutto però alla fine non porti a casa niente comunque non peschi niente in generale perché è andata così è andata così basta una mareggiata sbagliata una luna storta per eppure anche quello torni a casa io torno a casa contento anche se non ho preso niente torna a casa contento però magari era meglio se se avevo preso era anche più con te ero anche più contento così sono abbastanza contento molto bene allora senti ora durante la nostra garettina al centro a poi ti farò altre domande però direi di andare direttamente in gioco e vedere cosa ne caviamo cosa dici sono pronto sei pronto allora sì sì lo vedo ora andiamo in gioco vai allora ragazzi ecco la nostra competizione al san croix un montepremi simbolico di 360 credito anche perché fra c'è picci qua ce n'è stata la gloria per la gloria per la gloria si esatto no no io allora io ho un conto in banca di 362 mila crediti io c'ho 4 milioni e 120 mila allora io ho 7 milioni li ho sulla playstation solo che non li puoi passare non posso se potessi fare un bonifico sarei più contento allora dettagli della gara ragazza la durata è di un'ora quota di iscrizione 100 livello minimo 380 però è solo un duello quindi non ci saremo soltanto io e francesco cattura tutti l'equipaggiamento consentito è completo i tipi di attrezzature è completo i pesci sono luccio comune trofeo è unico maschi comune trofeo è unico maschi chiaro e maschi tigre comune trofeo è unico quindi direi di iniziare la nostra competizione dovresti essere il lago saint croix per aprire la competizione hai ragione andiamo al saint croix l'attrezzatura ce l'hai tutta a posto si 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 pronta preparata studiata calibrata perfetto allora guarda come cercano di vendere roba golden pack devo studiarmelo un po' sta cosa perché vedo che comunque allora siamo pronti siamo tutti pronti iniziamo la competizione sta partendo il la rovescia 5 anche un po lungo sto contro la rovescia trombette partecipare ho subito partecipato male perché sono sul molo dove si prende tutto tranne ma ho sbagliato anch'io sicuro sì sono sul molo dove non si piglia niente quindi devo spostarmi oltretutto kayak o barca come preferisci vuoi il kayak come la barca no no è lei lei padrone di casa allora prendiamo prendiamo la bacchettina a motore almeno così ne abbiamo prima perché abbiamo un'ora di tempo va bene adesso devo ricordarmi come si guida solo che tu la barca motore che c'hai la drago se io questa è io invece l'altro giorno l'altro giorno qualche giorno fa comprai il gommoncino proprio per essere a passo con te allora io comincerò con una losa da 10 cm 3 barra 0 una losa che in termini tecnici è uno ragazzi non lo chiamate la losa nella vita vera perché poi la gente non capisce che poi la gente fa come me dice una losa no no ma curiosità la losa in italiano è la cheppia che è un pesce protetto è uno dei pochi pesci protetti in italia il salmone italiano chiamato così perché è un pesce che vive in mare durante il periodo di produzione sali i fiumi e si pesca spinning anche molto divertente quindi la rosa è un salmonide un salmone non è un salmonide però fa la stessa cosa che fa il salmone cioè vivi in acqua salata e poi torna nell'acqua dolce proprio per riprodursi ok e non c'entra un cavolo quindi tu mi stai dando la conferma che il il come si chiama la traduzione italiano dei fishing planet lascia desiderare mi fa male all'anima infatti vedrete che i miei pesci sono scritti in inglese perché sì 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 è vero è vero le tue pesci sono scritte in inglese sperando di prendere qualche pesce perché guarda mi ha dato adesso adesso una pizzicatina ma iniziamo subito bene ragazzi io lo so prenderò schiaffi oggi io me lo sento no 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 non dire così non dire così anche anche in live sembrava ma poi non era ben giocata in quel posto del tevere sì no ma allora il punto è questo la mappa del tevere è simpatica poi è una cosa che dicono tutti i ragazzi che mi seguono mi dicono ma perché hanno messo solo uno specchio d'acqua italiano eh vabbè non hanno tutti i torti non hanno tutti i torti perché comunque forse la penisola italiana merita meriterebbe sicuramente qualcosa di un gioco a sé sì ma guarda un gioco a sé forse è la parola adatta però come dal punto di vista videoludico l'italia viene sempre un po presa a calci nel culo possiamo dire così molto molto tranquillamente ecco domanda domanda che mi è capitata tante volte tra i ragazzi che mi seguono però in realtà rischio di dare una risposta sbagliata qual è la differenza sostanziale tra una canna da spinning sì pesce intanto in canna beato te perché per adesso una canna da spinning una canna da spinning e una canna da casting a livello di fishing planet capisci cosa voglio dire perché fondamentalmente sembra che lo spinning e il casting in fishing planet fan hanno lo stesso ruolo però cambia il mulinello cambia delle cose illuminaci per cortesia perché allora spinning e casting nascono praticamente per pescare entrambi con esche artificiali la differenza basilare è che lo spinning soprattutto nell'ultimo periodo è utilizzato per delle tecniche in particolari come ad esempio il finesse o altre tecniche molto più pesanti come lo short jigging per dire o pesca che ne so ai tonni questo perché con la canna da spinning si riesce a lanciare molto più distante che con la canna da casting anche nella vita vera ok di pro la canna da casting c'ha che il combattimento è molto più diretto la precisione dei lanci è molto maggiore e anche la velocità con cui si lancia in sequenza è molto maggiore intanto ho fatto un maschi da 5 kg e 7 comunque si lo vedo se è 8 kg io ancora 6 esatto sto zitto non dico niente perché poi di solito mi macini quindi vabbè quindi spinning a livello tecnico e l'abbiamo preso dagli americani ma anche dai giapponesi serve per le tecniche più leggere più sensibili come il finesse ok quello che riguarda grammature leggere o una pesca molto pesante come può essere appunto quella in mare da riva oppure anche dalla barca ai grossi predatori come il tonno la ricciola e via dicendo il barracuda mentre il casting è prevalentemente una tecnica d'acqua dolce per tecnica d'acqua dolce anche con questa possiamo lanciare grossi pesi guarda la pesca al luccio si pesca con grammature molto elevate anche oltre 100 grammi si è più veloci e si ha un combattimento molto più diretto col pesce una sensibilità migliore anche nel lancio cioè parliamo chiaro una canada casting a parità di grammi lanci meno distante ma sei molto più preciso quindi stiamo parlando più che più che altro di una questione di sensibilità di precisione e anche di mobilità dell'esca in realtà anche di mobilità dell'esca anche ma quindi a questo punto se non mi ho capito male anche per una diciamo che anche per il tipo di pesce che si vuole prendere perché se mi dici che con lo spinning ovviamente uno spinning adeguato uno tira su tonni e stiamo parlando di pesci di un di un peso esagerato un bel peso sì decisamente anche diversa come combattività però è anche vero che vai a pesca a tonni spari almeno 70 80 metri di distanza con una canada casting non lo puoi fare fisicamente non sei in grado di lanciare così distante per quanto riguarda tutte le altre tecniche si parla di appunto precisione sensibilità e tecnica di recupero esempio per il bus si usano sia da casting che da spinning a seconda della montatura dell'esca dell'attività e via dicendo per il luccio ultimamente si predilige la canada casting ad esempio quasi tutti pescano a casting va bene anche a spinning in determinate condizioni esempio siamo in un lago molto grande non possiamo scendere in acqua dobbiamo lanciare molto distante lì si passa lo spinning ah vabbè certo 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 quindi sì è una questione appunto di scelte evidentemente anche per il posto per il tipo di pesca per il tipo di esca e tutto quindi almeno così lo abbiamo spiegato non abbiamo spiegato niente ho detto cioè non ho trovato una soluzione il problema è questo è che se dovete scegliere per iniziare iniziata spinning il casting viene assolutamente dopo sicuramente quello che poi farete a casting dopo aver imparato bene a pescare a spinning vi piacerà molto questo è il punto certo non c'è purtroppo non c'è una scelta definitiva c'è ma si parla di andare a pesca con 7-8 cani da pesca e non è che tutti i giorni uno c'ha voglia di farlo no vabbè 7-8 cani da pesca l'ultima volta che sono andato a pesca con 7-8 cani da pesca era facevo car fishing ma a momenti si pesca con 4 cani a testa minimo la batteria da 4 da 3 da 4 minimo quindi è un pezzo parliamo di spinning minimo chi pesca spinning a casting in maniera abbastanza valida nel senso che copre le grammature le tipologie almeno c'ha 5 canne almeno vabbè ma a differenza del car fishing non lo usa contemporaneamente è quello una per volta sì vabbè dovesse giustamente stare a oh io non lo sto prendendo niente io ho appena cambiato esca perché ci ho avuto quelle due mangiate e poi si è affermato ogni cosa a me non me stanno considerando di striscio hai ripartito dicendo mi ha appena dato una pizzicata sì 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 ma mi ha dato unito proprio io ci avevo già lì cuore in gola no mi ha dato un pizzicone incredibile e poi dopo basta basta non mi ha mi hanno detto ma come nella vita vera i luci fanno così no ma adesso provo ad allontanarmi un po' perché ho scoperto da non tantissimo tempo che se a fishing planet se tiri a una distanza inferiore di 15-20 metri quindi sei troppo vicino il pesce non te considera no non mi puoi di così devo cambiare modo di pescare completamente adesso eh perché qualche volta a me è capito anche di pescare e di prendere a piombo però almeno dalla barca dalla riva dalla riva no la settimana scorsa ho fatto un video al Nerrin la scoperta del Nerrin l'esplorazione l'esplorazione 2 prova Nerrin adesso non mi ricordo praticamente succede che per cambiare canna me leggo mani e piedi e una canna praticamente la butto per terra cioè praticamente lì scaploff lì per terra e prendo una un persico trota ma ai piedi per terra praticamente tra una scarpa e quell'altra quindi vado vado in chiusura alla grande però però come puoi vedere adesso qua né maschi né femmine né lucci niente 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 assolutissimamente niente che poi ci sto provando con tutti i tipi di esca possibili inimmaginabili ricordiamoci che il maschi è il pesce dei 10.000 lanci è chiamato così quindi ah sì 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 allora spiega questa cosa che poi a me me l'hai spiegata ma io non la saprei rispiegare ma in pratica il maschi è il più grande esponente per la pesca sportiva del luce in nord america nasce viene chiamato proprio in determinate zone del nord america il pesce dei 10.000 lanci quindi la media è che per prenderne uno devi lanciare 10.000 volte che so poi così tante e poche 10.000 volte no 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 diciamo che 10.000 volte penso di non aver lanciato io in vita mia però io ho messo 10.000 l'ho fatti ho passato i 200.000 chilometri recuperati sicuramente sono da rotta mano ormai ecco vedi io per esempio adesso sto utilizzando una canna da casting con un top water un walker da 56 grammi e non mi arriva alla stessa distanza di una canna da spinning assolutamente ma arriva una quindicina di metri meno mi fa ci sta è adeguato però probabilmente pesce 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 eccolo eccolo l'ha chiamato col walker e franci adesso infatti come come ho messo il walker in acqua texas ranger mica male cos'è? maschi maschi no maschi e basta da 4 kg e 62 maschi e basta maschi normale cioè non mi ha dato nessuna specifica quindi siamo io ho uno tu quanti hai tirato di fuori? perché tu sei già 8 kg 2 kg quindi hai fatto una media di 4 2 pesce sì uno da 5 e 7 e un tiger maschi molto più piccolo no io devo recuperare devo recuperare perché non è possibile che che prenda scoppolate in questa maniera mancano 40 minuti la gara è più che aperta anche perché non si può mandare avanti il tempo mi dicevi in questa gara no 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 in questa gara nelle gare in generale il proprietario diciamo della gara chi crea la gara il creatore imposta un'ora e l'ora rimane quella però rimane quella per tutti compreso il creatore il creatore il maschi creatore oddio senti e a livello invece di competizione quindi di gare di pesca l'ultima gara di pesca che hai fatto eccolo eccolo vedi lo fa apposta mi distrae con le chiacchiere questo non è un maschi questo è una balena un tonno questo esce fuori direttamente un tonno conserva e 13 chili e saliamo primi quanto? 13 chili tantissimo 13 chili è un'esagerazione è troppo no ma cioè 17 chili totali 13 chili è un pesce mostruoso 13 chili ora mi devo spostare non mi sposto perché sto cazzo di maschi mi ha portato praticamente dentro le fratte intrude fratte ma che aspetti hai fatto abbiamo un lucio a 13 chili 13 chili è un'esagerazione ma loro stanno riconoscendo il babbo diciamo ma questo è il babbo è il creatore allora ti dicevo a livello di competizione di gare appunto di pesca l'ultima che hai fatto come è andata non lo ricordo ma tanto tempo fa quindi è molto che non fai più una gara di pesca ho deciso di smettere quando le gare di pesca erano diventate un cioè non andavo più a pesca per pescare per divertirmi ma andavo a pesca per prendere più pesci degli altri ed è una cosa che nella vita vera ovviamente in game è un altro discorso ma nella vita vera non mi piace cioè perdevo quello che era vivere davvero la mia passione certo quindi ho deciso di passare a condividere le mie esperienze piuttosto che stare lì a tirar fuori tutto quel pesce che poi poi non facciamo stare trattato anche male ma io credo che a livello di competiz per quanto la pesca purtroppo perché io non essendo un amante del calcio ma diciamo dello sport in generale però adoro la pesca comunque è abbastanza una cosa di nicchia anche dal punto di vista videoludico assolutamente però mi sembra di vedere eccolo eccone un altro mi sembra un massacra ho preso ho imbroccato la situazione giusta ma c'era uno anch'io c'era uno anch'io così involontario al 100% una ferrata bruttissima non mi aspettavo un pesce sì ma è piccolino probabilmente niente di che è 8 kg buttali via piccolino piccolino è 8 kg va bene va bene va bene dai 8 kg va bene dicevo anche a livello come c'ho ancora 4 kg per far pari ma sì sì ok no vabbè vabbè non è ancora detto non è ancora detto allora il punto è che siccome non ho messo l'ancora anche se in realtà sì anche se in realtà le canne mi consentirebbero di ancorarmi perché io sono abituato a non metterla l'ancora nel gioco giustamente si fa prima recuperare però dai sì 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 però cioè posso capire se tu sei non ancorato è una canna non all'altezza ma se sei ancorato con una canna che va bene non sono esagerato che tira sui persici del Nilo però insomma magari tutte le volte accendi la barca e torna indietro dei 40 metri però vabbè senti ti volevo chiedere a livello appunto di competizione quando facevi le gare hai trovato delle situazioni spiacevoli che magari potevano essere non lo so riconducibili a situazioni come ti posso spiegare di una pesca tossica ecco un tipo di pesca assolutamente sì il problema è proprio quello che poi la competizione porta a a cercare il premio a cercare la come dire a cercare la la vittoria assoluta sì nel senso la supremazia non c'è più veramente neanche quello scambio in poche gare e se si parla di professionisti a livello alto sì se invece guardiamo le gare anche quelle più basse ma fino a livello regionale spesso manca eliti ho visto scazzottate gente in acqua c'è cose che veramente ti fanno passare la voglia di partecipare a certe cose cioè io vado a pesca ripeto ne parlavo anche ieri io vado a pesca per divertirmi vado a pesca per star bene se devo andare in un posto a litigare o a a cercare io sono più bravo di te sto a casa cioè o vado a pesca da un'altra parte non mi interessa proprio il problema è anche quello la competitività è giusta se fatta nel modo giusto nel senso se fatta per il fine di crescita per il fine di miglioramento personale io conosco tanti garisti bravissimi ma ripeto so gente in genere sono livelli più alti a livelli bassi oddio lasciamo stare quello che succede in america che poi lì è proprio tragico nel senso gente che piomba i pesci per farli pesare più lì vabbè in america è tutto è anche vero è anche vero che in america ci vivono di gare di pesca cosa che in italia è veramente impensabile si si no professionisti veri e propri però il fatto cioè il fatto di viverci con le gare di pesca ma non perché tu poi il pescato lo porti a casa e lo mangi no 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 chiaro te pagano vinci la competizione e vieni pagato però il il maltrattamento dell'animale non giustifica la cosa cioè non giustifica comunque la cosa cioè il piombare il pesce per farlo pesare di più non è che il pesce poi dopo è contento il pesce comunque è destinato a fare una brutta fine assolutamente in qualsiasi caso tu pensa che addirittura ci sono le vasche di pesa nel senso che i pesci vedi questa è una cosa un controsenso in america per avere un pesce valido il pesce deve essere portato vivo alla pesa e deve essere rilasciato quindi c'è le vasche del vivo ossigenate quando arrivano alla pesa in determinate categorie ovviamente se parliamo del basso perlomeno per non imbrogliare a parte dei metal detector montati nel buco dove tu vai a infilare il pesce ci sono degli acquari veri e propri nel quale vengono inseriti questi pesci e se il pesce ci sono dei giudici che stanno lì a guardare e guardano il pesce come si muove all'interno della vasca perché se te ci hai messo dentro qualcosa che non deve starci il pesce si muove in maniera sbagliata si posa sul fondo magari se l'hai piombato anche se quello verrebbe visto dal metal detector quindi anche questo ti fa capire quanto possiamo arrivare a far schifo pur di arrivare a vincere qualcosa assolutamente bruttissimo altro pesce per me altro pesce per me anche no no oltretutto ho ancorato la barca e sto facendo una leggerissima fatica northern pike ho giusto pareggiato i conti mi sa neanche no sei a 19,7,58 ancora sei sotto ancora sotto di un chiletto no no sto vivendo malissimo sta cosa no 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 allora in live la gara la vincesti quindi no vabbè non era una gara quella vabbè quella era una cosa una pescata improvvisata ma comunque no male ti stai impegnando fortemente perché così ti posso chiedere la rivincita è questo è la verità certo questo è un palese no guarda allora il fatto è questo quando ho iniziato a a giocare esci fuori dall'acqua per cortesemente perché sta a vedere che bestia ha preso voglio vedere sta a vedere voglio vedere cosa sei perché hai una bocca esagerata ecco appunto oh 23 kg 2,87 maschi unico 43 kg ma no ma no ma no stai cittando ha fatto due pesci l'ho fatto i cinque non si può non si può con il pesce più grande di 23 kg 2,87 no 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 va bene io per adesso penso che 23 kg sia il record nazionale del nebrascano cioè lo sai che mi hai fatto vedere un'idea adesso tiro allora una volta che ho recuperato questo vedo se ho preso il maschi uno dei maschi più grandi guarda che è veramente grosso 23 kg cioè è gigantesco ma io quando è uscito fuori dall'acqua con la bocca mi sembrava che volesse mangiare la barca un tonno eccone un altro eccone un altro niente non c'è verso non c'è verso ah guarda mi si stanno ho i crampi ai piedi perché sto contorcendo le dita ogni volta cioè ho i crampi come si dice dalle mie parti ai diti ai diti ai diti no guarda ti dicevo quando ho iniziato a giocare eccone qua che cosa sei tu Lucio no maschi maschi ancora 6 kg ma Lucio ne hai presi te si ho preso un trofeo credo Lucio trofeo vabbè tanto c'è non lo so mancano 30 minuti siamo a metà gara e ho tipo 40 kg 30 kg meno di te allora dicevo quando ho iniziato a giocare a Fishing Planet ovviamente non era nelle mie capacità mentali cognitive cognitive di dire adesso apro un canale di Fishing Planet infatti i primissimi video prima o poi farò una reaction i primissimi video di Fishing Planet che ho fatto c'ho la luce cioè praticamente la mia stanza è un'altra casa la mia stanza è completamente blu non so perché c'è una luce blu fortissima e c'è no ma la tende non ce l'avevo secondo me deve essere la luce che uso però non usavo questo non usavo un'altra e ci avevo la luce sparaflesciata in faccia infatti ero evanescente evanescente bello bello così ero evanescente però dicevo prima di iniziare a fare tutto prima di iniziare a fare tutto avevo avevo un minimo di difficoltà avevo un minimo di difficoltà cercavo di destreggiarmi sai uno cerca di mettere in pratica ecco da dove arriva la mia domanda cerca di mettere in pratica quello che impara nella vita reale ma mio padre vecchio pescatore con vecchie tecniche tecniche molto basilari quindi la mia domanda è due punti secondo te per come tu vivi la pesca e per come ho visto che comunque qualche video di Fishing Planet l'hai fatto lo puoi mettere in categoria di simulatore di pesca Fishing Planet o comunque se c'è qualche gioco che può essere paragonabile a un simulatore di pesca reale o è comunque un bel passatempo divertente che forse è quello che si avvicina di più a un simulatore di pesca allora simulatore inteso come simulatore vero e proprio nel senso che paragonabile esattamente alla realtà non direi è sicuramente il videogioco di pesca più bello e più completo che c'è questo è poco ma sicuro nel senso una pescata come quella di oggi che stiamo facendo noi in un'ora che rappresenta una giornata intera non è non è proprio pensabile cioè deve essere la giornata deve essere qualcosa di mostruoso per il resto diciamo che pesce diciamo che più simulatore di questo io sinceramente forse un gioco dei primi anni 90 ma c'è veramente del 486 più simulatore di questo non ne conosco quindi ed è un ottimo assolutamente è bello anche perché c'ha molte tecniche c'è tutte le impostazioni che in genere non ci sono nei videogiochi di pesca oh oppi 15 chili zitto zitto oh guarda che ha fatto un salto di qualità guarda che ha fatto un salto di qualità colorosissimo questo però come ti spaccavo tutto sicuramente il gioco più completo è il più bello e giocabile al momento non ne conosco più belli di questo sì va bene ora spesso e volentieri altri ragazzi mi hanno consigliato di giocare a qualcosa tipo russian fishing o per esempio io ogni tot video porto the angler sì me l'hai detto che è della stessa casa produttrice di the hunter call of the wild ma non è cioè per come io vedo la cosa sicuramente anche un po' di vogliamo chiamarla fedeltà al titolo assolutamente sicuramente c'è anche un po' di quello ma per come io vedo la cosa per adesso sì fishing planet rimane il migliore c'è un gioco di pesca in realtà non so se esiste anche per pc però esiste per mobile quindi per telefonino il problema è che tutti i giochi per mobile hanno diciamo ti danno quello che ti possono dare sono pur sempre i giochi per cellulari che è tipo car fishing simulator una simulazione solo ed esclusiva di car fishing puoi prendere qualche luccio puoi prendere qualche siluro ma fondamentalmente è car fishing dove io effettivamente pensavo che fosse un simulatore per quello che può essere un simulatore cioè come può essere fishing planet dopo un po' di tempo comunque un'ora equivale a che ne so una giornata di gioco sì una roba del genere o comunque una roba del genere in realtà un'ora corrisponde a un'ora un'ora di gioco corrisponde a un'ora di gioco e non solo c'è anche il discorso che il no questo è troppo pesante metterò questo questo va bene no troppo pesante anche questo c'è il discorso che essendo un simulatore per quello che può essere realistico prendi a seconda della stagione per esempio se tu lo scarichi adesso e mette l'impostazione mette l'impostazione tempistica reale lui collegandosi a diciamo al meteo locale ti dice che ne so sono tre gradi e notte spettacolare e prendi quello che è di conseguenza io una volta feci un tentativo dissi adesso voglio provare a vedere se riesco a prendere qualcosa perché non prendevo niente lasciando tutta la notte la canna in acqua andai a dormire addirittura mi scordai il cellulare sotto carica alle due tre del mattino cominciò a suonare tutto andai a vedere avevo preso una carpa spettacolare 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 ma è proibitivo cioè allora dovrebbe essere una cosa che tu dici che ne so sono patito ma non ci posso andare perché ho le gambe rotte e allora ti metti là però non è mai la stessa cosa non è mai la stessa cosa di vivere la pescata però per un appassionato passare del tempo anche pescando per finta è comunque un bel un bel passatempo dai non lo cambierei mai no no va bene però purtroppo gli impegni di tutti i giorni non ti danno la possibilità di poter fare quello che vuoi quando vuoi ne parlavamo prima di iniziare potessi cambiare a parità di stipendio ma anche qualcosa meno la pesca ma reale anche ora videogioco dopo un po' mi rompere le balle però la pesca reale andare in giro e tutto lo farei potessi lo farei assolutamente allora ti faccio una domanda sei mai venuto a pescare vicino dalle mie parti intendo per esempio il oh cavolo mi sta sfuggendo non succede solo a me verso Castiglion del Lago praticamente a Trasimeno ci sono venuto ho fatto anche un video tra l'altro di pesca alla spigola striata che non c'entra in niente è un pesce americano lo striped bus tra l'altro lo conoscete quindi anche sul gioco ma perché c'è a Trasimeno? allora in realtà non sono gli striped ma sono i wiped cioè sono un incrocio tra lo striped bus e il white bus pesce maschi da 5 kg non ti recupero ma ci ci provo e sono venuto a pescare proprio a Castiglion del Lago ci sono venuto che non è tanto con gli angler tube abbiamo provato a fare il persico reale ma era un freddo bestia e poi abbiamo deciso di un cappotto un fantastico cappotto siamo tornati a casa quindi sì sì Trasimeno lo conosco abbastanza bene il video di striped bus c'è sul canale e sì praticamente è diventato un pesce da pesca sportiva anche in Italia molto buono da mangiare divertente come pesca si tira un sacco io l'ho pescato a Mosca quella volta ah vabbè ma ti dirò guarda io non so il lago Trasimeno quindi Castiglion del Lago per carità Castiglion del Lago è un parlando del paese è bellissimo fantastico è fantastico poi tutti i paesi intorno Passignano Tuoros Trasimeno sono tutti quei posti che che poi anche per te non è lontanissimo no si parla comunque di due ore due ore un quarto altro pesce eh bevato te io sono abbastanza bloccato è piccolino però due chili due chili eh due chili che cos'è che cos'è è un luccio ah due chili un luccio ah vabbè dai 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 comunque voglio dire sei a otto chili da mezzo è mica tanto lontano eh si ho capito te hai fatto un pesce da ventitré chili però capito vabbè ma sto sbattendo a fainani non è la quantità di unici hai ancora un quarto d'ora per recuperare mamma mia durissima io ora sono fermissimo sono fermissimo non sto prendendo più niente a te mi sono spostato ho sposato la barca mi sono messo sul riba lo stai facendo apposta apposta dicevo il problema visto che prima si parlava di status di salute di determinati spot posti d'acqua spot eh il trasimeno secondo me eccolo 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 frate taggio pigliato il trasimeno vedeste la mia faccia in questo momento guarda che cos'è che cos'è maschi da venti chili no lucio del nord quattro chili eh hai annullato gli ultimi due pesci che ho fatto praticamente così semplicemente però bellamente proprio tranquillamente va bene va bene un quarto d'ora si può fare dicevo negli ultimi anni poi ha sempre avuto non proprio una grandissima nonnea il lago trasimeno il livello dell'acqua è sceso drasticamente già già non era altissimo il trasimeno ma il trasimeno non è per forse no è meno profondi sì ma a me dissero quando ero ragazzotto bambino che il trasimeno era forse raggiungeva il suo picco di profondità sui 6 7 10 metri sì 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 per quello che ne so è giusta questa informazione quindi non è che sia un lago esageratamente profondo però va bene il suo piccolo comunque la sua fauna acquatica l'ha sempre avuta siccome porca miseria mi sono mangiato una cosa incredibile siccome avrei sempre avuto voglia di andare al trasimeno a pescare ma me l'hanno sempre io ti parlo sempre di carfishing nel mio piccolo sì sì avrei voluto andare a pescare ma me lo hanno sempre sconsigliato e tutto in effetti ultimamente ho visto che oltre al ritirio delle acque e ad una sgradevole puzza di macilento marciume che le alghe quando poi vengono in superficie c'è anche una grossa moria dei pesci questo da cosa può essere dovuto in un bacino idrico che comunque non è tra i più grandi d'Italia ma è comunque un lago di queste dimensioni voglio dire che cosa può essere dovuto questa non ti dico una distesa di pesci però insomma non so se può essere dovuto alla pesca o proprio allo status di salute del lago guarda in genere dare la colpa alla pesca perché i pesci muoiono è un po' un controsenso nel senso che la pesca per quanti danni può fare il pesce che prendi lo porti a casa nel migliore dei peggiori dei casi peggiore tra virgolette ovviamente ricordiamoci che comunque sul Trasimeno c'è pesca ho preso un pesce anche io c'è pesca industria eccolo lì bene un nano io ho 2,9 kg comunque ok non lo so adesso te lo dico teniamo conto di questo quindi anche la preservazione stessa dei pesci e delle acque che c'è è importante per chi ci abita e chi ci pesca a livello proprio fisicamente industriale cioè industriale tra virgolette piccola pesca dall'altra parte sì si ha le condizioni ambientali quindi l'abbassamento dell'acqua che corrisponde spesso a un riscaldamento molto maggiore dell'acqua perché meno acqua c'è prima si scalda teniamo conto di cosa hai preso non c'è scritto 8 kg 8 kg un luccio di 8 kg 60 quando lo riprendo cioè io sto a fare lucci da 2,5 kg te spari 8 kg a pezzo cosa devo fare non potrebbe essere più indicabile da quella magari le forti piogge dopo la dopo la concimazione oppure degli sversamenti oh 3,5 kg è grosso questo ti dicevo quindi penso sia imputabile a fattori esterni e al clima probabilmente sono questi due parametri che purtroppo in un lago anche se così grosso così poco profondo possano causare danni importanti insomma ma guarda ti dirò io poi sai uno dovrebbe mettersi nei panni un po' di chi con le acque di un lago o di un fiume ma spesso di un lago ci campa quando ero ragazzino andavo a pescare in un lago di irrigazione molto vicino a casa mia allora per quanto piccolo fosse questo lago quindi stiamo parlando di un lago che sarà stato non lo so 100 metri per per 40 per 50 quindi una bella buca sì sì quando ero piccolo c'erano i bass anzi non i bass perché non si usava a chiamarli bass c'erano i boccaloni i boccaloni da noi si chiamavano i persici trota i boccaloni poi è sopraggiunta la lingua straniera sono i bass adesso però insomma il concetto è quello e si prendevano con lo spinning c'era il il verme con l'amo anti-alga all'epoca certo i rotantoni non esistevano le gomme ancora ragazzi siamo così anziani che non esistevano le gomme davvero il problema il problema qual è che io andando a scuola a pescare ci andavo d'estate certo e il lago puntualmente d'estate di giorno in giorno lo vedevi che si abbassava di diversi metri perché c'era un tubo ma grosso ma grosso che asportava l'acqua e e la buttava nei campi per l'irrigazione chiaro ora il punto qual è io credo che davanti a questi tubi ci vorrebbero sicuramente delle griglie qualcosa perché comunque non è un un lago dove sai che non c'è niente perché molte volte lungo la strada di questo lago ho trovato carpe anche di svariate dimensioni bass morti lasciati a seccare al sole che sono stati aspirati dal tubo probabilmente o se sono infilati nel tubo va a capire quindi anche un discreto peccato beh peccato per quello insomma senza parlare delle volte che abbiamo trovato l'immondizia vabbè ma quello purtroppo è non standard sì assolutamente ecco a me piacerebbe ove possibile ove possibile se potesse fare una riqualificazione di questi laghi capito ma perché è un bellissimo io ho quel lago in mente perché è un lago immerso in un bosco capito cioè immerso in un bosco nessuno che ti viene a dare noia nessuno che ovviamente io consiglio sempre di andare a pescare evitare di andare a pescare da soli perché può succedere qualsiasi cosa può succedere qualsiasi cosa le volte che abbiamo fatto gambe con le biciclette perché arrivavano in lontananza i cinghiali quindi abbiamo deciso di salutare di salutare di salutare però dico sarebbe stato sarebbe bello una riqualificazione un ripopolamento di questi laghi addirittura qualche volta ci ho provato prendendo dei pesci da un fiume lì vicino quindi in teoria la fauna ittica dovrebbe essere similare o identica a cercare di portarli risolvere un po' la situazione risolvere un po' la situazione soltanto che ci si mette anche l'incuria dell'uomo perché sai quante volte ho trovato i bivacchi di gente che va lì pesca e mangia pesca e mangia il punto è proprio quello dopo nelle piccole realtà così a parte non possiamo iniziare a pensare di gestire anche le acque private in quel modo là ma perlomeno le acque pubbliche se fossero più controllate se fossimo tutti più attenti sicuramente sarebbe un miglioramento purtroppo le acque private soprattutto i laghetti così di campagna hanno una legislazione che fa ridere parliamo chiaro anche la ripopolazione anche il ripopolamento di quegli specchi d'acqua ovviamente non c'è essendo laghi privati non ha contatto con corsi d'acqua è molto relativa nel senso non si farà mai finché qualcuno non pensa di portarci due basso o quattro carpe ma dovrebbe essere una cosa di interesse ecco per dire c'è molto più interesse c'è molto più interesse nel negli anni cinquanta sta frase sicuramente l'avrai sentita a dire anche te negli anni cinquanta c'è stato un sovrappopolamento dei cinghiali allora hanno portato i lupi se sono mossi per la caccia cacce similari se sono mossi a 360 gradi per la pesca non vedo mai poi lascia stare l'antibraconaggio che fortunatamente spesso e volentieri porta ottimi risultati però la riqualificazione delle acque non lo vedo c'è un sacco di cave che sono diventate morte ma ripeto le cave però non le puoi quelle purtroppo sono acque private quindi anche la riqualificazione lì diventa puramente privata non puoi fare conto del pubblico lo fai te persona privata che puoi farlo o sempre con il permesso del proprietario preferibilmente perché è su con lago per quanto riguarda le acque pubbliche c'è una grossa disinformazione e anche chi fa i controlli purtroppo si trova davanti a situazioni del cavolo parliamo chiaro perché quando ti trovi davanti certi personaggi con la legislazione italiana e tu lo sai bene dato anche le tue capacità diciamo professionali non è così semplice non è così semplice anzi rischi di passare guai tu anche per delle cose che non è difficile hai toccato un tasto veramente dolente e la pesca purtroppo io penso che da qui a pochi anni si sposterà su pesche fortunatamente le ultime generazioni sono molto più sportivi tra virgolette il catch release è la norma pochissime persone pochissimi ragazzi giovani portano a casa il pesce soprattutto in acqua dolce ancora combattiamo un po' con i più grandi più anziani però la legge dice che determinati pesci in determinate quantità si possono portare a casa chi sono io per dirti di non farlo ah vabbè sì certo ecco fatto perca già l'americana trofeo che non è valida che è un bellissimo pesce 918 grammi ok il perca giallo in realtà è yellow perch è il persi è il parente più stretto in america del persico reale persico reale che è uno dei pesci che io adoro e se andate sulla pagina mia vedete che tantissime pescate ce l'ho al persico reale pesce bellissimo ma deve essere anche molto divertente deve essere anche molto divertente anche perché ho visto che ci sono di svariate dimensioni quindi allora io ripeto purtroppo sono un nabbo sei un carpista dal punto di vista di pesca spinning sono veramente un nabbo hai due minuti per superarmi guarda mia sono avuto due tocchi in un lancio due tocchi in un lancio quanti? 10 chili? 10 chili in due minuti impossibile in due minuti potresti tirare su maschi da 23 chili è facile guarda ce n'è uno che mi sta bollando in faccia da 5 minuti l'ultimo lancio c'ho avuto due attacchi ma non c'è rimasto quindi non sono guarda non sono speranzoso 2 minuti e 5 secondi sono anche pochi perché se prendo un pesce grosso ecco pesce ecco pesce ecco pesce ci posso credere dai dai non è detta hai un minuto e 39 è impossibile è proprio impossibile con la in realtà sono venuto tutta la settimana a pasturare per i luci per i luci per i luci per questo bracconaggio sono venuto a buttare sangue di maiale sangue di maiale in acqua diciamo che in italia la pesca con sangue è vietata no ragazzi ma a parte ovviamente vietata perché crea una frenesia alimentare esatto che va oltre il consentimento ma poi fa schifo eccolo eccolo l'ultimo l'ultimo doveva andare così oggi l'ultimo ho un minuto per tirarlo fuori vieni 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 ragazzo vieni che cosa sei lucio del nord 4 chili 5 e 28 fanno dei pesci di 4 chili grossi in questa maniera come cazzo è possibile o pesce pesce oddio pesce è preso o pesce o pesce siamo passati a pescare in campagna o pesce 33 secondi oh dove va no 30 secondi no 28 no preso attenzione 23 chili no non ci credo maschi unico 23 chili e 4 a 15 secondi dai mamma mia mamma no guardalo te l'avevo detto no guarda oh questo è culo questo è culo oh non mi ha fatto non mi ha fatto tirare sull'ultimo di 8 chili di 8 chili non me lo ha dato non me lo ha dato non me lo ha dato l'ultimo di oh appena ho fatto conserva non me l'ha dato aspetta quanti chili eri ero 75 chili e 723 tiravo sull'ultimo da 8 eri sopra eri sopra 2 chili che per quanti pesci hai preso in tutto Ale dai facciamo allora vediamo un po' come faccio vedere il ritino da pesca Y Y se me lo da no non me lo da no quando esci il time's up ah si vabbè a sto punto si vediamo un po' 10 10 catture 12 ah no ma forse me l'ha dato l'ultimo forse me l'ha dato l'ultimo forse era 75 chili compreso l'ultimo vediamo dal replay poi porca ma dai ma non si può fare un recupero così ma dai 23 chili e 4 all'ultimo pesce a 10 secondi dalla fine oh ma me la sono bestegnata me la sono bestegnata 200 grammi più grande del tuo assurdo no nemmeno 170 grammi comunque tanto di cappello bella sfida bella bella allora vediamo un po' quindi il primo oh guarda lì non lo posso vedere non lo posso vedere con 81 chili e 242 grammi e il secondo e il pesce più grande di 23 chili 4 e 36 mentre io con 75 chili 723 il pesce più grande di 23 chili 287 quindi comunque l'unico arriva sui 23 chili ma io non ho parole non ho parole sono scioccato e mi rendo conto di essere io la persona orribile in questo momento allora passiamo velocemente in pre prima che vado in bestia allora ragazzi la competizione è finita la botta di culo finale tipica del senpai tipica no vabbè vabbè allora non posso dire la botta di culo come si dice del principiante questo non si può dire questo non si può dire però è sempre botta di culo permettimi il francesismo mettimi il francesismo allora dopo questa gara parliamo di una cosa un pochino più croccante l'anno prossimo 2024 novità vorrei portare più pesca in acqua salata quindi perlomeno un video al mese se non due di acqua salata e già per me è un grosso cambiamento perché fino ad ora ho portato 90% per acqua dolce croccantissima vi dico che sto testando le esche nuove del prossimo catalogo molix che è tanta roba quindi le esche in anteprima poi le vedrete al pescare show se volete venire al pescare show comprate i biglietti col codice sconto r1 sem assolutamente ovviamente se venite nelle pagine che ha le vi lascia qua sotto le trovate pescare show vicenza 3-4 febbraio sarò lì quindi se volete venire a incontrarmi siamo proprio lì all'angolo nostro degli influencer che dire porteremo anche un po' di fishing planet continuerò a essere ospite a sfidarti assolutamente e ad avere le botte di culo sul calcio di rigore l'ultimo pesce ci può stare credo che sia un buon principio per un buon 2024 finisce bene finisce bene il 2023 e inizia bene il 2024 quindi insomma comunque un anno ricco di novità con la pesca diciamo una concentrazione maggiore su pesca in mare poi hai detto c'è il pescare show hai anche appuntamento con altri ragazzi se non so giusto ti dico sbagliato guarda siamo lì al pescare show saremo tantissimi quasi tutti gli influencer italiani soprattutto i più grandi i più grandi canali ci sono tutti quindi che dire venite a trovarci perché veramente ci sarà da divertirsi assolutamente assolutamente allora fra complimenti grande botta di culo non riesco a dire altro botta di culo 26 volte nell'ultimo minuto ma cazzo è una botta di culo ma va bene così no va bene allora io ringrazio tantissimo Francesco per essere stato con noi ragazzi ricordo in descrizione trovate il suo canale youtube il suo instagram potete andarla a trovare così vedete anche trovano lì il codice sconto c'è tutto su instagram viene ripubblicato almeno una volta ogni 15 giorni proprio perché ci sono degli aggiornamenti di prezzo e i biglietti sono in prevendita quindi andate a vederli perché poi una volta finiti non ce n'è più ah vabbè certo ovviamente speriamo speriamo di fare il sold out come è successo negli anni scorsi ma scherzi ma scherzi assolutamente ragazzi come sempre vi ricordo che se siete interessati vi potete iscrivere al canale potete iscrivervi al suo di canale link in descrizione potete iscrivervi al discord per anche a far parte del club passione fishing planet eccetera 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 come sempre ragazzi noi adesso andiamo in chiusura saluto francesco e lo ringrazio ancora per essere stato con me in questa fantastica gara noi ci vediamo giovedì prossimo con non lo so come vediamo ve lo faccio sapere fischi plane ciao ragazzi ciao oh oh